nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen buongiorno gesù buongiorno a questo nuovo giorno oggi signore ti chiedo di proteggermi di proteggere la mia famiglia e di portarci questa sera a casa sani e salvi lontani da ogni pericolo e da ogni preoccupazione giovedì 17 novembre oggi festeggiamo santa elisabetta di ungheria o dio che a santa elisabetta hai dato la grazia di riconoscere e onorare i cristo nei poveri concedi a noi per sua intercessione di servire con istancabile carità coloro che si trovano nella sofferenza e nel bisogno per cristo nostro signore amen prima lettura dal libro dell'apocalisse di san giovanni apostolo io giovanni vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno sigillato con sette sigilli vidi un angelo forte che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli ma nessuno né in cielo né in terra né sottoterra era in grado di aprire il libro e di guardarlo io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo uno degli anziani mi disse non piangere ha vinto il leone della tribù di giuda il germoglio di davide e aprirà il libro e i suoi sette sigilli poi vidi in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani un agnello in piedi come molato aveva sette corna e sette occhi i quali sono i sette spiriti di dio mandati su tutta la terra giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono quando l'ebbe preso i quattro esseri viventi e ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi che sono le preghiere dei santi e cantavano un canto nuovo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai riscattato per dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù lingua popolo e nazione hai fatto di loro per il nostro dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra parola di dio dal salmo 149 hai fatto di noi per il nostro dio un regno e sacerdoti cantata al signore un canto nuovo la sua lode nell'assemblea dei fedeli gioisca israele nel suo creatore esultino nel loro re i figli di sion lodino il suo nome con danze con tamburelli eccetera gli cantino inni il signore ama il suo popolo in corone poveri di vittoria esultino i fedeli nella gloria facciano festa sui loro giacigli le lodi di dio sulla loro bucca questo è un onore per tutti i suoi fedeli alleluia alleluia oggi non indurite il vostro cuore ma ascoltate la voce del signore alleluia dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù quando fu vicino a gerusalemme alla vista della città pianse su di essa dicendo se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché non è riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata parola del signore il signore ci benedica e ci custodisca mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi rivolga verso di noi il suo sguardo e ci dia pace nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen buon giovedì a tutti